18 mesi di terapia e incontri con i giovani pazienti affetti da disturbi del comportamento e con gli studenti che hanno avuto modo di beneficiare del contatto diretto con gli animali. Successi straordinari, con miglioramenti sia dal punto di vista motorio che comportamentale quelli conseguiti dalla pet therapy in provincia di Foggia. I risultati sono stati illustrati a San Severo nel corso di un incontro. Il progetto, che ha rappresentato la prima sperimentazione in Puglia, è stato curato dal servizio veterinario dell'AS di Foggia. La riduzione dell'aggressività o dell'iperattivismo, dell'ansia proprio, quindi del carico ansioso, ma non solo, anche dell'autolesionismo. Va a agire sull'affetto e il sentimento, apre questo varco e da questo stimola la memoria a memorizzare qualcosa di positivo. Il progetto ha coinvolto un gruppo di lavoro formato da veterinari, psicologi, fisioterapisti e conduttori professionisti di animali. L'AS l'ha sottoscritto un vero e proprio patto con la natura che ha puntato sia sulla riabilitazione di una trentina di ragazzi con disturbi psichiatrici e autistici, in particolare con l'impiego dei cani, sia sull'incontro con gli studenti in nove scuole della provincia, dove i giovani hanno imparato a conoscere anche tartarughe rapaci. L'animale in sé favorisce l'apertura relazionale. Il problema degli animali più grandi o comunque quelli della fauna selvatica è che non si riesce con loro ad avere un rapporto stretto per poi arrivare ad alcuni obiettivi in particolare.